Wow! Siamo lentissimi! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Steph! E che se giochiamo? Footlool! E se vi state aspettando il solito giochino di calcio, vi sbagliate di grosso, perché in questo gioco noi non avremo il controllo della nostra squadra, ma potremo decidere le sorti della partita tramite dei poteri pazzissimi! Non so se esiste come parola pazzissimi, ma rendeva l'idea! Va benissimo così! Potremo fare di tutto! Esplosioni, meteoriti, mucche che vanno in giro per il campo, barriere invisibili, ragazzi, davvero di tutto! Noi potremo intrometterci in questa partita in tutti i modi e ovviamente dovremo cercare di far vincere la nostra squadra! Giustamente! Allora, presentiamo le squadre! La mia è dei gentlemen, con questo bellissimo capello, gli occhialetti e il papillon, mentre Feriniki come sempre è arrabbiata! Perché cosa ti ha fatto arrabbiare oggi? No, non sono arrabbiata io! Allora, siccome ovviamente essendo un altro gioco non ho signor maialino per poter incutere timore negli avversari, ho deciso di mettermi con gli occhi arrabbiati perché secondo me questi occhi così rossi fanno davvero paura e fanno intimidire l'avversario! Stanno guardando male, io ho un po' di paura! Lì si mette così davanti, li guarda male, li fa fuggire, capito? Quindi l'ho pensata in questo modo! Ok, siamo pronti? Sì, prontissimi! Ci tengo a precisare, partiamo con una partita abbastanza sobria, quindi abbiamo scelto dei poteri molto tranquilli, così capite un po' come funziona il gioco! Tranquilli! Molto tranquilla! Dopodiché arriveremo a cose assurde! Volete avere dieci palloni in campo? Ci saranno! Ci sarà davvero di tutto! Aspettatevi proprio il peggio o il meglio! Iniziamo mentre finiti chi parla! No, non ci provare! Ok, ok, ok! Allora, i poteri siano qua, perfetto, perfetto! Andiamo ragazzi! Infatti come vedete noi non abbiamo controllo! Io spiego e tu ne approfitti per farmi un gol! Io non ho cliccato nulla! Ma fanno gol da solo! Volevo dire velocemente, come vedete, guardate le mani, alza le mani per far vedere che noi non abbiamo controllo dei giocatori! Vanno da soli, noi li possiamo solo ostacolare con questi poteri che vedete qui in basso! Sì, è tempo di far esplodere un po' di gente, grazie! Sì, pipim! Guarda come ti faccio esplodere! Un boom! Vai, 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 vai! Disgraziata! Esplodi! Non ti faccio arrivare al pallone! No, sei disgraziato! Aspettateli, rallento! No, non ti ho neanche visto! Che tattica incredibile! Troppo veloce! Fai bravissimo! Da solo questo, eh! Eh sì, da solo, mi è distratto! Allora, concentrazione! Vai veloce! Vai veloce! Ma no! Bello! Cioè, ha tirato mentre esplodeva, quella era una martire incredibile! Allora, io adesso ti rallento tutti i giocatori! Ok, e me li fai pure esplodere! Oh no, ho dato la speed a te! No, ho sbagliato! Oh cavolo! Oh cavolo, mi sto confondendo! Corri! E io ti rallento! Fai esplodere tutti! Corri tu! No! No, ti ho dato la speed! Mi dimentico di cambiare i tasti, aiuto! Andate, fanciulli miei! Che sta succedendo? Che ti faccio esplodere tutto! Sì, sì, lo segno! No! Bellissimo! Bellissimo! Allora, vai! Vai! Non ce la puoi fare! Cioè, hai dato la velocità anche al mio! Perché è difficile centrarli, capito? Oh! No! Ma dai, non puoi sbagliare! Ah, ecco, bravissima! Adesso ti faccio impazzire! Via! No! 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 No, tutti veloci! No! E allora, tutti lenti! Tutti lenti! Tutti lenti! È fantastico, scusate, è davvero fantastico! Allora, giù, concentrazione! Ok! Andate! Allora! Ho finito le mine! No, di già! Ho esagerato, sci! Devo avere un peso! Cioè, io ne ho ancora 45 e tu le hai finite! Perché mi piacciono molto le mine, quindi mi faccio molto prendere la mano! Mi sa perché non mi stupisce! No, l'ho fatta volare in ritardo! Ho disgraziato! Guarda come corre! Eh, sì, sì! No! Mi giro un attimo! Grazie per la velocità! Andate, andate! Segnate! Segnate! Oh, l'hai parata! Bravissima! Dov'è? Dov'è? È finita! È finita! 5-6, quindi vabbè! Hai vinto tu giusto per un gol in più! Perfetto! Mi hai fatto coronare i 1720 dollaroni! Complimenti! Complimenti! Allora, allora, vuoi provare già qualcosa? Facciamo stessi poteri, però la Cup for two! Ok, che sarebbe? La Cup for two, ragazzi, praticamente le porte sono dallo stesso lato, ok? Però le palle vengono buttate fuori due alla volta da una specie di coppa! È bellissima questa! L'abbiamo provata nel tutorial! Sì, è molto strana! Dai, andiamo, andiamo, andiamo! Oh, mio Dio! Guardate! Non sono pronto psicologicamente! Allora, aspetta! Io in quella devo segnare? Io devo segnare in quella! No, tre palloni addirittura! Uh, no! Segnate, ragazzi! No! Dove stanno arrivando i palloni? Mi si è flippato, mi si è flippato tutto! Ok, no, ci sono di nuovo! Ci sei? Ci sei a posto? Oh, mamma mia! Ma dai, ma mi stanno... Oh, mamma mia, è troppo veloce! Aiuto, non riesco a fare nulla! Ma tu riesci a fare qualcosa? No! Allora, divertiamoci! Spida tutti! Spida tutti! Non mi sembra una buona idea! Guarda! Non si capisce nulla! Aaron, non fermi per un attimo! Pensa se è finita, invece no! No, mancano ancora 50 secondi! Io ho pochissimi poteri, non so tu! Eh, anche io li sto finendo! Giustamente stanno iniziando a diventare davvero pochi! Vai, segnate! Cosa sta succedendo? E qui rallentiamo tutti! Qui rallentiamo tutti! Non rallentare tutti! No, hai recuperato! Neanche me ne sono accorta! Quanto siamo? 32 e 35! Ma io sono il giapponese o l'italiano stavolta? Eh, forse il giapponese! Ma non si capisce nulla in questa modalità! No, sinceramente non ho capito! Non ho capito cosa dovevo seguire... Cioè, non ho capito... Non la facciamo più questa, non la facciamo più! Facciamo finta di nulla, facciamo finta di nulla, facciamo finta di nulla! È tempo di utilizzare i poteri pazzi! Allora, allora ragazzi, ho una super tattica! Uno, due, tre! Hai tutte le barriere, ma è impossibile segnare così! Esatto, esatto! Sono bellissime anche le barriere, mi piacciono sempre! Prova ad andare a tirare, ti faccio vedere cosa succede! Sì, vai! Allora! Vai! E guarda! No, che cosa sei... Ho il potere perfetto che va contro il tuo, hai notato? Io lancio i meteoriti che distruggono le tue barriere, bellissime! Tipo così all'improvviso! Vai, tira! Tira! Bravissima! Brava, brava, brava! Allora! Oh cavolo, ho sbagliato! Volevo mettere solo delle mini! No! No, no, no! Andate a prenderla! Andate a prenderla! Andate a prenderla! Adesso la incastro qua, guarda! No! Ma come ha fatto? È stata bravissima! Mi ha fregato di brutto! Non so come ha fatto, guarda! Uè! No! Pam! Vai a tirare! Vai! Bim! Ci siamo? Sì, sì! Premi due? Li usiamo tutti e due! Vai, ora! Vai! Ragazzi! Segnate il più possibile! È pieno di palloni! Allora io... Segnate! Devo concentrarmi e mettere... Segnate! Ma qualcuno sta facendo qualcosa? No! Sinceramente no! Sinceramente no! Non stanno facendo nulla! Ho finito le mine! No! Allora, posso usare i meteoriti però! Boom! Graziata! Cosa sta succedendo? È l'apocalisse! È l'apocalisse! Vai, tira a te! I giocatori quando ci sono troppi palloni non sanno qual è andata a prendere! No, non capiscono più nulla e non capiscono più neanche quale è la loro porta perché tirano a casaccio! Cioè, hai fatto caso che tira... Guarda in mezzo! Boom! Sì, dovrebbe funzionare! Che parte del mondo vorrei essere? Boh, non lo so! Ruscio! Ruscio? Io il russo, bere vodka! Ma l'hai notato che ti cambia anche il nick? E ti chiami potrk? Potrk! Non so leggere il russo, mi dispiace! Sono pronto! Quindi sei potrk! Ok! Mi sento un potrk! Vai, vai, vai! Perfetto! Nuova partita, nuovi poteri! Io sarei russo! Io sarei pronto a battere te! Allora... No! Non mi puoi battere! Ho un potere che non abbiamo mai provato! Lo so! Lo so! Infatti sono curiosissima, sono curiosissima, non vedo l'ora di vederlo! Vai, segna! Ma no, hai sbagliato! Un portale! Ha aperto un buco nero in mezzo al campo! Aspetta, aspetta, aspetta! Cerca di provarlo! Oh! No! No, 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 no! Devi centrare il pallone e finisce dall'altra! Guarda! Mamma mia, è bellissimo! E mi hai fatto segnare, grazie! Oh no, non mi devo distrarre! Oh! Siamo lentissimi! Amo questo gioco! Non riesco a dire altro! Guarda come volano a rallenti! Sembrano... 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 Sembrano nello spazio, capite? È bellissimo! Meraviglioso! Portale a casaccio! Ma che succede? Oh no! Ma anche i giocatori blinkano! Sì, non l'avevi ancora notato! No! Pensavo solo il pallone, invece anche i giocatori e di nuovo tutti lenti! Di nuovo tutti... Dove sta finendo il mio portiere? Ti ho tolto il portiere! Ti ho tolto il portiere e finito dall'altra parte! Segna! Segna! Dai, segnate qualcosa! Allora... Allora... Oh mamma mia! Dove andrà a finire? Eccola! Oh, addio! Aiuto! E di nuovo tutti lenti! Dov'è la palla? Vabbè! Eccola, eccola! Ti faccio esplodere il portiere! Andate! Vai! Non me li fai esplodere tutti, non è giusto! Sì! Sì! No! No! Ok, ce l'hanno fatta! Segna! Ho finito le mine! No, 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 no! Ah, tutti lenti! Tutti lenti! Tutti lenti! Oh! Palla che scompare e ricompare lì! Non ci credo! È assurdo tutti questi poteri! Non ci sto più capendo nulla! No! Dai, palo! Ma no! Incredibile il palo! Esplodono tutti! Esplodono ancora! Slow motion! Slow motion! Passala! Calma! Fai esplodere quella! Tutti lenti! Tutti lenti! Poi! Dove sei? Ok! Portale! Oh no, aiuto! Dove siamo? 3 a 2! 15 secondi! Vai bello! Non ho più portali, non ci credo! Non ho più nulla! Io continuo a rallentare tutti! Fermo il tempo! Mancavano soltanto 12 secondi! Fermo il tempo! E i brodi eroi volevano vincere la partita! Anche se erano lentissimi! Riusciranno a pareggiare questa partita! E a portare il trofeo a casa madre Russia! Eccolo! 6 secondi della fine! È solo il tiro! Non avevo mine per bloccarti! Ma no! Pareggio! Penso che ormai non riescono più a fare nulla! Le mesi talmente lenti! Che non riescono più a muoversi questi poverini! Poverini! Non ne potevano più! Esplode ancora gente anche nel pareggio! Così esplodono da soli! Perfetto! Pareggio! 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 Bellissimo! Bellissimo! Allora adesso l'ultima partita funziona così! Ok! Praticamente esiste break way! Che è l'ultima partita che è l'unica che non abbiamo fatto! In cosa consiste? Vince! La partita è infinita! Ok! Si vince soltanto nel momento in cui uno dei due è in vantaggio di cinque gol dall'altro! Ma non la finiremo mai! Quindi! No no! Senti me! Tu metti come bonus soltanto palloni! Io soltanto portali! E vediamo che cosa succede! Ci sto! È una buonissima idea! Ci sto! Ne ho tantissimi! Allora! Abbiamo... Ho fatto l'achievement mess! Che significa disordine! Perché guarda cosa stiamo combinando in mezzo al campo! Ho finito tutti i palloni! Ok! Quindi adesso li guarda! Io ho finito i portali! E adesso... Adesso vanno da soli! Io non ho altri poteri! Anche io! Quindi faranno tutto da soli! Vediamo cosa succederà! Ma poi non finirà mai! No non finirà mai! Io ce l'ho detta che... Abbiamo flipato il gioco! Sì assolutamente! Quanto siamo? Eh 0 a 3! Per madre russia! Grandissimi! 0 a 4! Perché si vengono i soli? Ma sono scarsissimi i miei! 4 a 2! 4 a 2! Stai recuperando! 4 a 3! 7 a 3! Me ne basta uno! Para portiere! Para para e segnate! Contro il team! Kawaii! Sei pronta? Il Kawaii vince sempre! Guarda te lo dico già! Comunque abbiamo scelto dei poteri molto molto particolari per questa partita! Vuoi presentare i tuoi? Muro di fuoco e rallentamento! Io ho preso i meteoriti e poi lo slow motion! Perché dopo che li farei bruciare col muro di fuoco! Perché ho letto la descrizione e so che brucierei i player! Li voglio vedere bene! Aspetta aspetta! Falli andare piano! Stiamo bruciando! Vorrei dire una cosa! Che un team Kawaii con gli occhi da demon e non si può vedere! È fantastico! Vabbè! Niente anche un pirata con il cappello da gentleman da altronde! Bisogna mettere! In effetti sono due controsensi incredibili! Ma pazienza! Brucia! Anche se siamo Kawaii dobbiamo comunque, ripeto, intimidire gli avversari! Quindi gli occhi fanno il loro lavoro! Le chiedo una cosa! Mi sembra giustissimo! Voglio uno slow motion con 6 meteoriti che cadono! Ok! Allora mi preparo! 1, 2, 3! Via! Tutti lenti! Ma non funziona! Ora meteoriti! Ora meteoriti! Shbiiiim! 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 Ci fermiamo così con questo video! Speriamo che vi sia piaciuto perché noi ci siamo divertiti tantissimo! Fateci sapere se magari potete vedere un altro episodio in futuro! Stiamo collezionando di questi giochini divertenti! Ne stiamo trovando davvero tantissimi! E ci divertiamo tantissimo a portarli! Quindi speriamo che vi sia piaciuto! Nel caso fateci sapere appunto se ne potete vedere un altro! E ci fermiamo così! Bene che ci piace così! Se ci sono stati lasciati un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie per la visione!